Grazie a tutti 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 Sono due giocatori comunque Che hanno un tonnellaggio maggiore rispetto a lui Gli hanno lasciato più spazio Per quello che riguarda il tiro da tre punti E lui lo ha sfruttato E appunto con 5 su 7 da 3 Il dato è abbastanza eloquente C'è qualche domanda? A posto così, Lorenzo, come ti pensi di fare per la seconda? Especialmente at this point in the season, so I hope, you know, that he recovers and he can play, you know. But going into Tuesday, I think, like I said, I think the biggest thing for us is playing together. I think in the beginning of the game, we were trying to do too much individually, and it showed. When we play individual ball, we're not a good team. But when we play together, we're really hard to beat. And especially, you know, with the Curbinoid and our fans and everybody, you know, it's beautiful out there. When we play together, you know, that's a big advantage. So on Tuesday, we just got to come out initially and play together. I think if we play together, play hard and no buts on the line, you know, this is it. This is the final. So you can't save anything. And I think if we come out with that mindset on Tuesday, we'll be okay. Ok, prima di tutto, fagli auguri a Giovanni Tomassini per una pronta guarigione, una pronta ripresa. Ovviamente non si augura mai il futuro, cioè, appunto, lo vuole vedere in campo. A detto di questo, dobbiamo aiutare di giocare individualmente, come abbiamo fatto all'inizio di questa gara 1. E sicuramente il pubblico, il palazzetto, giocare in questa atmosfera fa la differenza. Dobbiamo giocare assieme e ovviamente questi sono le finali. Ci sarà solo da divertirsi. Thank you, Lovles. Grazie. Grazie.